Il tram 9 partiva da Piazzale Gioberti a San Giovanni. Durante le ore di punta, alla motrice veniva sempre agganciato un rimorchio. Il tram 9 partiva da Piazzale Gioberti a San Giovanni. Il tram 9 partiva da Piazzale Gioberti a San Giovanni. Il tram 9 partiva da Piazzale Gioberti a San Giovanni. Il tram 9 partiva da Piazzale Gioberti a San Giovanni. Il tram 9 partiva da Piazzale Gioberti a San Giovanni. Grazie a tutti. In riva Ottaviano Augusto, il tram percorreva una tratta, in sede propria. A Campo Marcio, il tram percorreva un'altra tratta, in sede propria. A Campo Marcio, il tram percorreva un'altra tratta, in sede propria. Mentre gli anni 50, alcune corse del tram erano prolungate fino all'arsenale, in sede propria. METRO 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 Nel corso degli anni 50 la tratta per l'arsenale fu soppressa e il tram 9 si limitò al girone di campi e l'uso.